Quindi questo tour sarà ovviamente l'occasione per ringraziare i tanti elettori che ci hanno votato e soprattutto per dire grazie ai tanti amministratori che hanno messo la faccia in queste elezioni e deve essere, come ha detto bene Alessandro, un nuovo metodo, il capovolgimento dello schema. Cioè per la prima volta forse il partito deve ascoltare chi sul territorio ha qualcosa da dire. I 120 secondi, i due minuti che le persone avranno per dire la loro idea è sicuramente per noi un valore aggiunto che porterà qualcosa in più nel nostro bagaglio umano ed esperenziale. Io credo che questa sia la testimonianza che noi ci siamo, ci siamo più forti che mai e siamo accanto a tutta la nostra gente e ricostruiamo insieme una comunità grande e forte che ha la sua ragione di essere nel nostro leader Silvio Berlusconi e al quale ancora oggi diamo la nostra vicinanza, il nostro grande affetto e la nostra fiducia e gratitudine. Grazie. 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 Grazie.